Benvenuti a Crossroads. L'economia cinese sembra essere sull'orlo del collasso. Ne parliamo da un po' e oggi vedremo i dati reali. Prima del Covid l'economia del PCC era già in fase calante e non sembrava in grado di uscirne e questo stava iniziando a causare disordini in tutto il paese. I dati e le guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina, iniziate con Trump, continuano anche sotto Biden. Il settore immobiliare sta colando a picco. Il settore high-tech è paralizzato dalle restrizioni sui semiconduttori ed altre politiche. E con le crescenti tensioni internazionali di Russia, Iran e altri paesi, il PCC si è scontrato con ulteriori dazi e le imprese stanno cercando di ridurre il rischio abbandonando la Cina. Alla luce di tutto questo, sembra che l'economia cinese sia finalmente vicina al collasso. Ma è davvero così? Ci sono sforzi per evitare il disastro economico? Stanno funzionando? Vediamo. Joe Biden ha recentemente rilasciato un'intervista a Time in cui si parla dell'economia cinese. E Biden ha detto, tutti parlano di quanto sia forte e potente la Cina. Dimmi un po', faresti a cambio con Xi Jinping o con qualsiasi altro? In qualsiasi altro paese? Non scherzo, sono serissimo. È una domanda retorica, ma lo faresti? Avete una popolazione che è notevolmente più vecchia della stragrande maggioranza dei giovani in Europa. Sono troppo vecchi per lavorare e sono xenofobi. Da dove viene? Dove andrà a finire? L'economia è sull'orlo del baratro. Ed è importante che Biden dica che l'economia cinese è sull'orlo del baratro. E poi dice, e la loro economia sarebbe in piena espansione? Ma per favore. Biden ha poi sottolineato il potenziamento militare costosissimo del PCC. E questo nonostante il fatto che i cinesi vivano seri problemi economici. Poi ha parlato della nuova via della seta, uno dei tentativi del PCC di salvare la propria economia, megaprogetti e progetti per infrastrutture fuori dalla Cina. Biden l'ha definita una deleteria iniziativa cimitero, mettendone in discussione il successo. Ma i dati economici del PCC insistono nel dichiarare una crescita del 5%. È sempre il 5%. E invece l'economia cinese potrebbe essere finita. Attualmente sconvolta dalle guerre commerciali, dal crollo dell'immobiliare e dalle imprese che abbandonano il paese nell'ambito della cosiddetta diminuzione del rischio. Certo, se uno si limita a considerare i dati diffusi dal PCC ripetono continuamente di avere un PIL in crescita del 5%, ma il PCC dice sempre che la sua economia è in crescita, a prescindere da quello che dicono invece i fatti. Ne parla su Newsweek Gordon Chang, che addirittura paventa una minaccia militare in conseguenza di questi crescenti problemi. Leggiamo. Citano l'intervista di Joe Biden a Time. Il presidente Biden ha dichiarato nell'intervista a Time del 28 maggio che la Cina ha un'economia sull'orlo del baratro. E Gordon Chang dice che ha ragione. E dovremmo preoccuparci, perché Xi Jinping potrebbe cercare di risolvere i suoi problemi economici iniziando un'altra guerra. Dice che a prima vista la cupa valutazione di Biden sembra sbagliata. L'ufficio nazionale di statistica dice che il PIL cinese ha abbattuto le aspettative con un ampio margine, crescendo del 5% su base annua nel primo trimestre di quest'anno. Insomma, i dati dicono che la Cina sta crescendo. Ma cosa dicono invece i dati reali? Come dice Gordon Chang, si vede un leggero miglioramento rispetto alla robusta crescita del 5% registrata lo scorso anno. Ma nessuno dei due rapporti ha senso. Come mi ha detto questa settimana Ann Stevenson-Yong di J Capital Research, credo che i numeri non significhino più nulla. E poi, ora c'è un grande divario tra i risultati diffusi e quello che vediamo. Il gruppo Rodium ritiene che l'economia cinese l'anno scorso sia cresciuta dell'1,5% e ora ci si avvicina al 2%. Questo avrebbe detto Biden a un gruppo di donatori del Partito Democratico a Park City, nello Utah, lo scorso agosto. E da allora la crescita in Cina è quasi certamente diminuita. L'economia cinese è in lento declino, dice citando Andrew Collier della Orient Capital Research di Hong Kong. E aggiunge che le start-up stanno chiudendo. Nessuno riesce a trovare lavoro. Milioni di persone stanno pagando mutui per appartamenti nemmeno costruiti. I servizi comunali stanno chiudendo. La situazione per i cinesi è molto brutta. E cita Stevenson-Yong che dice «La cosa triste della Cina è che il modello economico ha raggiunto la fine del suo ciclo vitale. O si cambia modello o arriveranno grandi sofferenze». E questo è importante. Perché per il partito comunista cinese cambiare il modello è del tutto escluso. L'economia del PCC si basa sul comunismo. Da lì non si scappa. Cambiare il modello significerebbe cambiare il partito stesso. È impossibile. Perché significerebbe la morte del partito comunista cinese. Per questo i tentativi di soluzione non sono il cambio di modello economico, ma fughe in avanti che aggravano i problemi. Il PCC persevera nel modello che già evidentemente non funziona. Sovvenzioni, politiche imposte con la forza, fregature ai partner commerciali, con accordi che avvantaggiano il partito. E questo gli si sta ritorcendo contro, perché gli altri paesi stanno iniziando a rendersene conto. E perfino i cinesi hanno capito che non va. E infatti stanno portando i loro soldi fuori dalla Cina. E poi c'è la guerra commerciale con gli Stati Uniti, che poi non è nemmeno limitata agli Stati Uniti, ma si sta allargando ad altri paesi. Anche quelli in passato molto favorevoli al PCC. Stanno iniziando a rendersi conto di essere stati danneggiati. Newsweek dice che la Turchia ha annunciato sabato un dazio sulle importazioni di veicoli cinesi entrando nel numero sempre crescente di paesi in via di sviluppo che difendono l'industria dalla percepita sovraccapacità cinese. Tradotto, il PCC produce troppo e svende. In apparenza, la svendita cinese sembra indicativa non di una sovraccapacità produttiva, ma di forti esportazioni. Alte esportazioni uguale successo economico. Mettiamola così. Se devi sbarazzarti delle tue scorde in eccesso, questo come può voler dire che stai andando bene? Quando un'azienda vende sotto costo lo fa per cessazione attività. E questo è un segno di aumento di volumi o di fallimento. E il dazio del 40% sui veicoli elettrici sarebbe mirato ai veicoli tradizionali e ibridi provenienti dalla Cina per difendere la quota in diminuizione della produzione nazionale. Insomma, stanno cercando di liberarsi delle loro scorte, almeno secondo il Ministero del Commercio turco. Poi più avanti dice, questo avviene nel contesto dell'acuirsi delle tensioni commerciali tra la seconda economia mondiale e gli Stati Uniti. Seconda economia sarebbe ovviamente quella cinese, anche se la Cina è considerata un paese in via di sviluppo. Gli Stati Uniti e persino l'Unione Europea hanno accusato Pechino di inondare i mercati con i suoi prodotti con alte sovvenzioni statali per aiutare la domanda interna stagnante. In altre parole, la Cina sul mercato interno non vende. E come reagiscono davanti a tutti questi prodotti rimasti sugli scaffali perché in Cina nessuno vuole comprarli? Danno sovvenzioni, diffondono numeri economici falsi. Stampano denaro per cercare di salvare le proprie fabbriche. Sovvenzioni alla produzione mirata all'esportazione. Spesso il PCC fa così quando vuole fare affari all'estero. Ad esempio i veicoli elettrici. Il partito sovvenzione al mercato. Loro possono vendere le auto al di sotto del costo di produzione dei concorrenti perché il PCC non ha bisogno di fare utili. I soldi se li dà da solo. Succede quindi che i prodotti cinesi sbattono fuori dal mercato la concorrenza o perlomeno la danneggiano gravemente. A quel punto il PCC ha il dominio del mercato e può addirittura far fallire i suoi concorrenti. E a quel punto è un monopolista e può aumentare i prezzi. Il problema, però, è che gli altri paesi stanno iniziando a capire questo giochino. Lo stesso Joe Biden sta attaccando il PCC per questo, così come molti altri leader di tutto il mondo. Torniamo all'articolo. La Cina nega di avere un problema di sovraccapacità e afferma che i detrattori stanno cercando di frenare il legittimo sviluppo della Cina. Stranamente, però, anche i partner commerciali normalmente favorevoli al PCC, come il Sud America, ora si uniscono al coro di lamentele sulle esportazioni cinesi e hanno iniziato a difendere le proprie industrie. Appunto. Per esempio, in risposta all'ondata di acciaio cinese nelle ultime settimane, Brasile, Messico e Cile hanno annunciato nuovi dazi per difendere i propri posti di lavoro e la propria capacità produttiva. E poi, la Commissione europea, cioè il ramo esecutivo dell'Unione europea, dovrebbe annunciare questa settimana dei dazi sui veicoli elettrici cinesi dopo un'indagine durata mesi. Insomma, stanno reagendo. E la stessa cosa sta accadendo negli Stati Uniti. E poi in Guatemala ci sono tensioni commerciali con la Cina. Il mese scorso, i giornali guatemaltechi hanno scritto che la Cina, secondo partner commerciale del Guatemala, ha bloccato le loro importazioni, tra cui zucchero, caffè e noci di macadamia. Ora, naturalmente, tutto questo ha anche un significato più profondo. La spinta ai veicoli elettrici faceva parte di una strategia da ultima spiaggia del PCC. E si rifaceva a uno degli slogan del PCC, superare al punto di svolta. E cioè, la teoria economica del PCC considera molto difficile competere nei mercati esistenti, per cui si rivolge alle tecnologie di nuova generazione. È per questo che guarda all'intelligenza artificiale, ai prodotti medici, ai veicoli elettrici, ai pannelli solari, eccetera. E se riesce a conquistare il monopolio di quei mercati partendo da zero, scalzando i concorrenti, acquisendo una posizione monopolistica, potrà controllare un mercato futuro. Anche sull'energia verde, Biden, anche se le sue politiche stanno spingendo molto a favore di esse, in realtà stare spingendo i tentativi del PCC di ottenere il controllo di questo mercato. E per quanto riguarda il superamento del punto di svolta, il PCC ha molti programmi. In precedenza aveva un programma chiamato Progetto 863. Era uno dei programmi principali ed era considerato all'avanguardia per il furto economico del PCC. Si basava sull'attacco informatico militare, il furto di tecnologia occidentale e il Progetto 863 mirava le tecnologie di nuova generazione per acquisirne il controllo. Insomma, il PCC mira l'high tech e vuole uscire dalla produzione di merci a basso costo. Quanto invece alla questione alimentare e all'esempio del Guatemala, qui si parla di zucchero, caffè e noci di macadamia. Il Partito Comunista cinese sta anche tentando di rendersi indipendente a livello alimentare, ma sta avendo anche qui difficoltà, perché sta esaurendo le terre coltivabili. L'acqua in Cina è inquinatissima e i danni ambientali causati dalle politiche agricole e di altro tipo sono seri in Cina. Per loro è molto difficile coltivare. Hanno cercato di uscirne passando ad esempio alla carne, carne di maiale, pollo e altro. Ma poi sono arrivate l'influenza su Ina e la viaria e altri problemi con gli animali e pare che la causa fosse l'inquinamento dell'acqua e del suolo e forse dei mangimi scadenti. Il vero motivo non lo sappiamo. Tornando al PIL, sembra che ci sia un'azione coordinata da parte del PCC per nascondere i fatti sul vero stato dell'economia cinese. Ma un po' in tutto il mondo si crede che l'economia del PCC stia fallendo, nonostante quello che dicono i libri contabili. Ecco cosa diceva Forbes a febbraio. Gli economisti faticano a capire la reale portata del colossale crollo delle azioni cinesi da 7.000 miliardi di dollari. Nel migliore dei casi, dal 2021, il mercato avrebbe perso l'equivalente del PIL di Giappone e Francia messi insieme. E questa non sarebbe nemmeno la notizia peggiore. Il riferimento non è alla deflazione cinese che si sta aggravando al ritmo più veloce degli ultimi decenni o al fatto che Evergrande, uno dei colossi immobiliari cinesi, sta tornando a salire. Fanno riferimento pare alla guerra mediatica di Xi Jinping. In poche parole, censura le cattive notizie. Nelle ultime settimane, il Ministero della Sicurezza dello Stato cinese avrebbe chiarito che Pechino è a caccia di chi diffonde opinioni negative sulle prospettive economiche della Cina. Insomma, l'economia del regime cinese va benissimo, ma se dite il contrario, vi incriminano. Quanti saranno a denunciare il vero stato dell'economia cinese se farlo significa probabilmente il carcere? E a questo punto, come ci si può fidare dei dati diffusi dal PCC? Forbes ha sottolineato che questo sinistro avvertimento a non denigrare l'economia cinese, facendo false affermazioni, è di Mao Zedong, non di Adam Smith. In parole povere, i giornalisti occidentali in Cina, gli economisti in Cina, chiunque voglia fare affari in Cina non può parlare male dell'economia cinese. Pena al carcere. E quindi non ci si può fidare di loro. L'articolo rivela inoltre che la principale agenzia di intelligence cinese sta dicendo chiaramente che è prioritario, testualmente, rafforzare la propaganda economica e la guida dell'opinione pubblica. E tra i molti problemi delle leggi cinesi sulla censura, c'è anche il fatto che i reati sono spesso formulati in modo vago. Quindi, spesso in Cina, se si lavora ad esempio nel cinema, nell'informazione o in qualsiasi altro settore in cui il PCC detta delle linee guida vaghe, la reazione delle persone spesso è quella di censurare anche troppo. Perché hanno paura, e per non sbagliare, censurano qualsiasi cosa. Anzi, forse non solo non criticano né mettono in dubbio lo stato dell'economia cinese, ma magari gonfiano addirittura i numeri di propria iniziativa. D'altronde hanno paura di essere puniti dal partito. Ma poi cosa succede? Se uno inizia a gonfiare i numeri, gli altri poi citano quei numeri gonfiati, perché non si possono mettere in dubbio i numeri già in circolazione. Insomma, abbiamo capito. Non possiamo fidarci. Ora, la cosa importante è che non sono solo io a dirlo. Anche i governi di tutto il mondo lo stanno riconoscendo. E anche le imprese e gli investitori di tutto il mondo. D'altronde è evidente che i dati sono esagerati. Se guardi il mercato azionario, il crollo dell'immobiliare e tutti gli indicatori economici lo capisci che il PCC mente. Quando si parla di economia cinese, ci sono da sempre due versioni contrastanti. Da un lato la Cina è sul punto di diventare la superpotenza. L'avrete sentito ripetere mille volte. Dall'altro lato ci sono sempre stati gravi problemi noti a molti osservatori. E anche prima della recente recessione economica, questi problemi stavano già raggiungendo un punto di rottura. Diplomat dice che già negli anni 90 i problemi strutturali dell'economia cinese erano ben chiari ai capi del regime. La crescita era troppo dipendente da investimenti alimentati, dal debito e da consumi insufficienti. E perciò il PCC cercava di attirare capitali dall'estero. Come abbiamo spesso detto in questa trasmissione, gran parte dell'economia cinese è stata tenuta in piedi da massicci investimenti esteri. E i consumi non fanno girare più di tanto l'economia, perché le politiche del regime e i vari problemi sociali preoccupano molto le persone, spingendole a non spendere. Così la Cina è diventata il produttore a basso costo del mondo e poi ha tentato di uscirne con l'high tech, ma il tentativo sta fallendo. Il problema di fondo, che ora vediamo essere vicino al punto di rottura, c'è sempre stato, ma è stato coperto dall'immagine. The Diplomat osserva che l'economia cinese mostrava segni di debolezza anche prima della pandemia. La popolazione in età lavorativa è in calo da un decennio e la popolazione ha raggiunto il picco, il limite. E ora l'India l'ha superata, come molti prevedevano. Il partito comunista cinese non è riuscito a convincere le famiglie a fare più figli, dopo decenni di politica del figlio unico. Prima, se si aveva più di un figlio, si veniva ammultati. A volte uccidevano il bambino appena nato, i cosiddetti aborti post-nascita, in cui in pratica si uccide il neonato. E ormai il sistema è quello. Molti non vogliono avere più di un figlio, ammesso che ne vogliano fare. Questo ha causato una crisi demografica in Cina, cioè pochi giovani che lavorano e troppi anziani che hanno bisogno di essere accuditi. E senza nessuno che se ne occupi. Le masse di giovani lavoratori che un tempo riempivano le fabbriche del mondo sono scomparse. Dovranno essere stanziate più risorse per la popolazione anziana crescente. Questo dopo decenni di boom delle infrastrutture pubbliche e dei trasporti. Perché il PCC è andato avanti facendo megaprogetti, città fantasma, strade che non portano da nessuna parte e aeroporti sperduti che nessuno usa. Xi Jinping, il capo del partito, con la sua deriva autocratica ha inoltre reso più diffidente gli imprenditori locali, soffocando l'innovazione e la crescita. Nessuno vuole rischiare di esporsi. Inoltre si osserva qui il giro di vite normativo sul settore tecnologico e l'aumento del controllo del settore privato da parte del partito hanno ulteriormente frenato la crescita. Perché la Cina, appunto, è un sistema comunista. Il governo controlla le imprese e l'intera economia. E ora si scopre che questo blocca la crescita, come sempre fanno le politiche comuniste o socialiste. Diplomato osserva che, a fronte di scarsi progressi nel distacco dalla dipendenza dagli investimenti, che ho detto essere il problema della Cina, gran parte dell'economia è stata sostenuta artificialmente dagli investimenti. E ancora, se gli investitori non vedono prospettive di miglioramento, si ritirano. E a quel punto crolla tutto. E mentre questo accade, le priorità vengono rivolte all'autosufficienza e alla sicurezza interna. Invece di cercare di far crescere l'economia, il regime spende per le armi. Sta creando unità militari in alcune aziende. Programmi di formazione di addestramento militare per i bambini. Stringe la morsa sicurezza interna. Insomma, il PCC sta sostanzialmente militarizzando tutto, per difendersi evidentemente da minacce all'instabilità interna. The Diplomat osserva che, sebbene siano state attuate alcune riforme, sono oscurate da interventi pesanti in settori fondamentali dell'economia, con conseguente deflusso di capitali, che ha costretto il governo a imporre restrizioni al deflusso di capitali. E ricordiamo, la preoccupazione in America Latina e non solo, sono che, siccome il PCC sta sonvenzionando e quindi rendendo i suoi prodotti più economici, cercando di farli uscire dalla Cina perché la gente in Cina non vuole comprarli, la preoccupazione è che questi prodotti sono venduti a prezzi troppo bassi per le imprese locali e quindi sono visti come attività commerciali scorrette perché il regime cinese vende sempre sotto costo. E quindi nemmeno questa strada delle esportazioni sotto costo sta funzionando. Ma l'elenco dei problemi potrebbe continuare a lungo e Diplomat ne elenca un bel po'. Ma, per farla breve, l'economia del regime cinese si sta effettivamente sgretolando e le soluzioni che il partito comunista cinese cerca di attuare non funzionano. Anzi, alcune stanno sortendo l'effetto opposto, facendo fuggire i capitali dalla Cina e spingendo le imprese ad abbandonarla. Perché la gente in Cina non ci crede che l'economia stia andando bene e nello specifico perde la fiducia nello yuan cinese. La gente teme che i soldi che ha in banca vengano distrutti dall'inflazione e cerca di investirli in beni durevoli. Comincia a comprare oro o immobili al di fuori della Cina e cerca di convertirli in dollari americani. Non ha fiducia nella valuta cinese, però così il problema si aggrava. Si vedono le corse agli sportelli bancari, le imprese abbandonare la Cina. Perché non solo tutti sono preoccupati per lo stato dell'economia. Hanno anche paura della risposta del PCC alla crisi, che in pratica è una totale rinazionalizzazione delle imprese. Il ovvio effetto è quello di spaventare la gente. Sta diventando troppo rischioso stare in Cina. Ecco perché si parla di de-risking, che è un modo elegante per dire fuggiamo dalla Cina. Insomma, il regime cinese è a un punto morto. E nonostante la sua economia sia arrivata al capolinea, il PCC continua a versare denaro nelle sue forze armate. E la sua risposta si concentra sull'instabilità interna. Inasprisce la propaganda sulla popolazione con la retorica di Mao per cercare di mantenere il partito in vita, invece di concentrarsi sul tentativo di salvare l'economia interna. E nonostante le regime si stia indebolendo economicamente, in realtà sta diventando più pericoloso sullo scenario internazionale. Bene, per oggi è tutto, ma torneremo a parlare dell'economia cinese. Detto questo, non dimenticate di condividere questo episodio. Aiutateci a diffondere la notizia. E come sempre, state bene, rimanete informati e rimanete liberi.